In questo numero di Qui Europa Magazine si rafforza la cooperazione con la Tunisia. 45 miliardi per il partenariato con l'America Latina. Green Deal, nuovi obiettivi per il risparmio energetico. Migrazione, investimenti, commercio e transizione verso l'energia pulita. Sono alcuni dei temi al centro dell'accordo di cooperazione siglato dall'Unione Europea e dalla Tunisia. L'Unione ha promesso a Tunisi 900 milioni di euro di assistenza macrofinanziaria, legati però al via libera al piano da 1,9 miliardi di euro da parte del Fondo Monetario Internazionale, che prevede l'impegno a varare diverse riforme da parte del paese nordafricano. Nel frattempo Bruxelles mette a disposizione del governo tunisino 150 milioni come sostegno immediato al bilancio. Per la lotta al traffico di esseri umani e alla migrazione illegale vengono stanziati 105 milioni di euro. Soddisfazione è stata espressa dalla premier Giorgia Meloni presente alla firma dell'accordo. È un ulteriore passo importante verso la creazione di un vero partenariato tra la Tunisia e l'Unione Europea che possa affrontare in maniera integrata la crisi migratoria e lo sviluppo per entrambe le sponde del Mediterraneo. Il memorandum è un punto di partenza al quale dovranno seguire diversi accordi per mettere a terra gli obiettivi che ci siamo dati. Plauso all'accordo da parte degli eurodeputati di centrodestra, critiche invece dal PD. Io credo che il memorandum siglato a Tunisi sia un successo per l'Europa ma soprattutto un successo per l'Italia che ha dimostrato come in maniera credibile il tema dell'immigrazione possa essere portato avanti con soluzioni concrete. Un primo passo importante, fondamentale, che si ottiene grazie all'Italia, all'impegno del nostro governo rispetto a una situazione, quella della fragilità del governo tunisino che se acquita, se aggravata rischia di creare delle conseguenze sul tema delle partenze dei cosiddetti barconi sempre più grave. Un memorandum inaccettabile ovviamente anche perché abbiamo l'esperienza che abbiamo avuto già con la Turchia, con la Libia e sappiamo i risultati quali sono che non abbiamo assortito nessun effetto. Oltretutto la gente, queste persone continuano a venire eppure avendo fatto questi accordi o memorandumi con la Libia significa che non funzionano. Oltretutto è scalocando totalmente il Parlamento perché fosse stato un accordo potevamo anche discutere questa situazione mentre invece è un memorandum in cui il Parlamento praticamente è tagliato fuori. 45 miliardi di euro per sostenere il partenariato rafforzato con l'America Latina e i Caraibi fino al 2027. Ad annunciare lo stanziamento è stata la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nell'ambito del vertice tra l'Unione e i Paesi latinoamericani e caraibici. Transizione verde equa e un approccio inclusivo su trasformazione digitale, sviluppo umano e sanità questi pilastri dell'intesa siglata nel corso del vertice. L'Unione Europea collaborerà con i partner sulle materie prime critiche come il litio sempre più importante per le batterie e quindi per la transizione energetica. L'obiettivo dell'accordo è rafforzare le catene di approvvigionamento. Sul fronte della guerra in Ucraina è mancato invece l'accordo sulla netta condanna alla Russia ed è stato approvato un documento che esprime preoccupazione per il conflitto ma che non cita apertamente Mosca. Il testo è stato approvato da tutti i Paesi tranne il Nicaragua. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le norme che fissano nuovi obiettivi di risparmio energetico per il 2030 nell'ambito del Green Deal. La nuova legge, già concordata dai negoziatori di Parlamento e Consiglio, prevede che i Paesi membri garantiscano una riduzione del consumo energetico di almeno l'11,7% entro il 2030. Fino al 2025 si dovrà risparmiare l'1,3% ogni anno, percentuale che verrà progressivamente aumentata arrivando all'1,9% entro la fine del 2030. Gli obiettivi dovranno essere raggiunti attraverso misure locali, regionali e nazionali, in diversi settori ma soprattutto nella pubblica amministrazione. Gli Stati membri dovranno inoltre garantire che almeno il 3% degli edifici pubblici sia ristrutturato ogni anno per renderli a emissioni zero. La direttiva stabilisce anche nuovi requisiti per sistemi di teleriscaldamento efficienti. Il testo dovrà ora essere formalmente approvato anche dal Consiglio dei Ministri dell'Unione prima che possa entrare in vigore.